In questo Tekken 7 con gli episodi personaggio inizia la rivincita fra Claudio e Xiaio. Siccome Xiaio aveva vinto, ora tocca a Claudio avere la rivincita e infatti la sta riavendo la rivincita, riesce a conquistare la sua vendetta Claudio Serafino, essendo italiano. Claudio è il vincitore, ora io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace.